Sono Michelangelo Di Toma. Allora, introduciamo Wilson & Morgan. Wilson & Morgan è una flag, una bandiera, se dice così, un logo acquisito dai fratelli rossi di Treviso nel 1992. Sotto questa bandiera c'è la bandiera di un imbottigliatore indipendente. Che cosa sono gli imbottigliatori indipendenti? Gli imbottigliatori indipendenti sono quei personaggi, quelle persone, quelle aziende vanno sul posto nelle distillerie, selezionano delle botti, le scelgono apposta e hanno cura di seguire tutto il percorso che quella botte farà, quel whisky farà nel corso del tempo. Alla fine, quando il whisky sarà pronto, verrà imbottigliato, portato in Italia e poi potrà essere venduto e da noi degustato. Questo è quello che fanno gli imbottigliatori indipendenti in generale, e ce ne sono diversi. Questo è quello che fa Wilson & Morgan. Il mondo di Wilson & Morgan è un mondo che si divide in tre piccoli mondi, diciamo così. Classic range, quel gruppo di distillerie che vengono selezionate, in cui i prodotti che vengono selezionati rappresentano un elemento distintivo della scelta fatta da Wilson & Morgan verso quella distilleria. Sono dei prodotti, per così dire, di uso quotidiano, potremmo dire. Sono dei prodotti però ricercati. Sono dei prodotti che ci danno l'opportunità di vestire quell'abito, di degustare quel whisky in quel momento particolare della nostra giornata. Le selezioni che vengono fatte nell'ambito dei classic range sono delle selezioni che sono guidate dall'intuito e soprattutto dal gusto. Ogni imbottigliatore privato dà la sua impronta alla selezione dei whisky che fa. Al momento in cui vengono selezionati questi whisky vengono poi riproposti. La fascia di prodotti classic range è una fascia, diciamo, accessibile a tutti. È una fascia che può rappresentare una buona opportunità, un buon mercato, una buona introduzione al mondo dei whisky di Wilson & Morgan. Altro passaggio sono invece le selezioni delle botti, ovvero quella fascia di prodotti con questi astucci di colore verde che rappresentano delle selezioni particolari, curate, soprattutto rappresentano quei whisky per così dire a grado pieno. Un whisky quando invecchia in un barile arriva alla gradazione alcolica di 63-64 gradi di gradazione alcolica. Alcohol by volume si dice in termine tecnico. Questi whisky nel corso del tempo all'interno delle botti che respirano evaporano. Se ne va via una piccola parte chiamata la parte degli angeli. All'interno della botte rimangono dei whisky ad una gradazione alcolica sempre leggermente minore, verso i 63 gradi in cui sono stati messi nella botte. I whisky presi dopo quel lungo periodo di invecchiamento, che possono essere i 12, i 14, i 18 anni, i whisky selezionati dopo il giusto periodo di invecchiamento, vengono a quel punto presi direttamente dalla botte, non allungati con acqua e portati nella bottiglia alla vendita esattamente alla gradazione alcolica come da barile. Questa è la seconda linea, diciamo con un vestito un po' più impegnativo, se vogliamo dire così, sicuramente di maggiore interesse. È un po' come se facessimo una scuola, quella parte che va verso il liceo, il liceo superiore, fino ad arrivare a Università del Whisky, che è rappresentata da quelle selezioni che sono rare, bottiglie numerate, in cui le massime espressioni di ogni distilleria rimangono ad invecchiare quasi sempre oltre i 20 anni e rappresentano le eccellenze di quello che è il mondo Wilson e Morgan. Sono Michelangelo Di Toma, vi introduco nel mondo Wilson e Morgan, esattamente nella linea Castrem Selection, Castrem come da barile, la gradazione alcolica a cui viene preso il whisky quando arriva a sua piena maturazione. In questo caso entriamo in una distilleria, Dalwain, siamo nel distretto dello Speyside, delle cinque aree di Scozia, quello dove sono concentrate, le maggiori distillerie, potrei anche dire le migliori, ma non è proprio così. Diciamo il whisky dello Speyside è sempre un whisky piuttosto corposo, estremamente gustoso, è un whisky accattivante, ma è sicuramente un whisky difficile, quindi è un whisky in cui bisogna starci con una certa attenzione. Bene, la distilleria di Dalwain è una distilleria che produce una buona quantità di whisky. La maggior parte delle distillerie di whisky di malto in Scozia producono del whisky, il single malt, fatto in una sola distilleria, che poi verrà utilizzato per il cosiddetto blended. Il whisky blended non è il whisky come noi lo troviamo spesso da supermercato, il whisky blended è il whisky più venduto al mondo, l'80% delle vendite di whisky nel mondo sono di whisky blended, e solo un piccolo 20% è di whisky single malt. Quindi la ragione di esistere di alcune distillerie, della maggior parte delle distillerie in Scozia, non è tanto quello di fare dei rilasci, delle tirature, degli invecchiamenti particolari come single malt, e quando di poter dare questo whisky a tutta una serie di distillerie, di whisky soprattutto, di distillerie di imbottigliatori proprietari di marchi di whisky che utilizzano le loro distillerie per creare e costruire il loro blended. Non posso nominare l'azienda multinazionale, la numero uno al mondo, che è proprietaria di questo whisky, ma lo scoprirete facilmente andando e indagando in internet, siete bravi a farlo, però posso dire che questo è uno dei componenti essenziali di un whisky blended così famoso da avere un'etichetta sbilanciata da una parte, potremmo dire un'etichetta storta, era la pubblicità di una volta, e questo whisky blended, il componente di questo whisky blended, fa parte da sempre di questa miscela, ed è uno dei blended, lo dicono le statistiche, non lo dico io, più venduti al mondo. Ritorniamo a questa distilleria. È una distilleria il cui whisky è una sorta di spalla, una sorta di corpo, per quanto riguarda la componente del blended whisky. Se preso da solo, questo whisky ha bisogno di essere guidato verso la sua identità. È quello che ha fatto Fabio Rossi, con la selezione Wilson & Morgan, nel momento in cui ha preso una botte, alcuni barili di questi whisky dalla Dall Wayne, e li ha fatti invecchiare in botti ex barbon, per poi rifinirle in botti ex sherry. E ce lo dice l'etichetta. Wilson & Morgan, Castrain Selection, 14 anni di invecchiamento. Che cos'è il numero? Che cosa vogliono dire 14 anni di invecchiamento? Sono gli anni certificati, in cui il whisky rimane ad invecchiare nella botte, e non può essere toccato neanche manomesso, e neanche manipolato. Non ci possono mettere dentro nulla. Distillato nel 2007, 14 anni di invecchiamento, gli ultimi 20 mesi però, li fa Sherry Finish PX. Abbiamo imparato che PX sta per Pedro Imenetz. È un tipo di sherry particolarmente dolce, particolarmente morbido. Gradazione alcolica sono 53,9. Esattamente come da barile. Il whisky è rimasto ad invecchiare 14 anni, ha fatto la sua rifinitura, e a quel punto è pronto per entrare in bottiglia, e per essere degustato da noi. Quale sarà il momento, l'occasione speciale della nostra giornata, in cui noi vogliamo degustare questo whisky? Beh, con il whisky estremamente impegnativo, particolarmente, non estremamente, particolarmente impegnativo, il whisky d'Hallwein ci coinvolge. Siamo pronti. Ci troviamo quasi di fronte, lo uso con una paragone, che forse non è appropriato. Potrebbe essere il pino nero, per quanto riguarda i vini, all'interno di un blend di vini, per fare la composizione, per dare la struttura e il corpo ad un blend vinoso. Bene, così come il pino nero dà la sua struttura ad un vino, anche D'Hallwein ha la sua struttura. È forte, è quasi un concreto, è quasi un cemento armato. Sembrerà strano usare questa parola per un whisky, vero? Dobbiamo semplicemente avvicinarci al whisky e degustarlo, per poterlo capire. È un whisky impegnativo, quindi, qual è il mio momento speciale della giornata? È un momento in cui, tra me e il whisky, c'è un dialogo diretto. Voglio comunicare col whisky, il whisky vuole comunicare con me. Voglio bere un whisky e interpretarlo, andarlo a leggere. È un mio momento particolare. La mia poltrona, la mia sedia, il mio attimo giusto per poter degustare il whisky, forse non c'è nessuno intorno a me. È un momento in cui siamo soli io e lui e il whisky è solo con me. A questo punto lo guardo, ci guardiamo, il colore mi coinvolge, è un giallo-oro piuttosto intenso, anche se i riflessi non sono così brillanti come in altri whisky, ma non vuol dire, l'occhio vuole la sua parte. Avviciniamoci con il bicchiere al naso e proviamo a sentire i profumi. Ricordo che è a 53,9 gradi, quindi starò attento ad avvicinare, a non mettere il bicchiere vicino al naso, troppo vicino al naso. Ecco, sento pungente l'alcol che c'è ovviamente in questo whisky, 53 e più gradi, però tra le pieghe dell'alcol riesco già a sentire qualcosa, riesco già a sentire la sua personalità, la personalità di questo whisky. È proprio quello che ci vuole in questo momento per me, per potermi avvicinare a questo mondo. Tengo a portata di mano, ho già capito, un po' di noci, di nocciole, di noccioline, qualcosa, di frutta secca a disposizione, a portata di mano, perché sono sicuro, magari mangiando un po' di frutta secca questo whisky forse mi darà anche altre sensazioni. Le tengo là, sono pronte. Poi, avvicino il bicchiere al naso, continuo a sentire i profumi, l'alcol è così forte, invadente, vi ricordate il segreto che vi ho svelato? Soffiate nel bicchiere, tirate su con il naso, sentiamo i profumi, come noi li sentivamo prima. sembra quasi una magia, ci proviamo. Piccolo sorso, andiamo a masticarlo. Una sensazione corposa, intensa, la parte divino e divinoso dello sherry viene fuori in maniera imponente, determinante, però non sovrasta, lascia libero spazio al resto del whisky e sotto sento questa parte di cera d'api, è una parte molto particolare, è la caratteristica di questa distilleria e la caratteristica di questo whisky. Bene, ne sento questa intensità, è un whisky muscoloso, vigoroso, beh, non voglio accendere in pubblicità che sono state usate certe volte nei film, ma è il whisky giusto per me in questo momento, questo sì, l'ho scelto apposta, magari anche vedendo questo video, mi sono avvicinato, ho potuto capire, determinare certe sensazioni e adesso me le ritrovo in bocca, secco, è asciutto, poi arriva morbido, intenso, ma quante sensazioni, quanti profumi, non è torbato, non ho bisogno di un whisky torbato, non ho bisogno di sentire quella torba che è piuttosto evidente, che tante volte mi dà piacere come se fumassi un buon sigaro piuttosto che una pipa, no, non è torbato, ho bisogno di sentire i profumi della natura, bene, i profumi del cereale, li sento, i profumi del verde, del fragrante, li sento, abbastanza speziato, lo sento, ma è questa api, questa imponenza di cera d'api, questa imponenza di miele che intorno alla mia bocca mi dà la voglia e poi un finale piuttosto lungo, prolungato, molto caldo, mi dà la voglia di assaggiare la mandorla, la nocciola, perché sono delle sensazioni che riesco a sentire nel whisky, ecco, fate così anche voi, quando vi trovate di fronte ad un whisky e sentite degli aromi e dei profumi particolari, andate a ricercare qualche cosa che avete con voi o se siete in un posto elegante, se siete in un bel posto, se siete in un whisky bar, fatevi portare per esempio della cioccolata piuttosto che della frutta secca, piuttosto chiedete, a casa chiaramente è più facile perché abbiamo più cose a disposizione, un finale che mi dà anche leggermente gli aromi dell'arancia e qui mi è venuta in mente un'idea geniale, l'arancia essiccata bagnata nella cioccolata, c'ho voglia, non ce l'ho a disposizione, portatemela per cortesia, ne ho desiderio, questo è il modo per vivere un whisky, vestire un abito, una sensazione, una dimensione che ci metta al nostro agio esattamente quello che vogliamo in questo momento. Ancora una sensazione olfattiva è l'alcol, lo so, si sente sempre abbastanza evidente, soffio nel bicchiere, ne sento i profumi che si ampiano e arrivano fino nelle corde del mio cuore e a questo punto lo assaggio insieme a voi. Un buon bicchiere per questo mio momento particolare. Sláinte Sono Michelangelo di Toma vi introduco nel mondo Wilson & Morgan passando attraverso una release dei rilasci di denominati Castrain Selection di Wilson & Morgan appunto. Per questo rilascio e per questo momento speciale della nostra giornata, per questa occasione speciale della nostra giornata ho scelto Linkwood. Qui il selezionatore è entrato nella distilleria, ha selezionato la botte che riteneva opportuna e quella botte selezionata rimarrà ad invecchiare nella distilleria tutto il tempo necessario per arrivare a piena maturazione secondo gli intendimenti del nostro selezionatore, in questo caso di Wilson & Morgan. Linkwood è una distilleria che è nello Speyside, è il cuore sostanzialmente pulsante della Scozia dove i whisky più interessanti vengono prodotti. È un whisky non torbato. La torbatura è la tostatura per effetto di torba da parte della torba appunto del cereale. Ma il più delle volte i cereali non vengono torbati. La torbatura veniva utilizzata nel momento in cui non c'erano a disposizione altri tipi di tostatura quindi non c'era legno non c'era carbone e quello che avevano a disposizione gli scozzesi era un carbone allo stadio primortiale la torba appunto. Qui non viene utilizzata e l'80% delle distillerie in Scozia utilizza cereali non tostati non torbati. la torba è un elemento caratteristico che devo dire a noi italiani piace molto perché noi siamo i figli del caffè e quindi a noi in Italia sembra dicono che ci piaccia bere caffè e questo fa sì che ogni volta che ci avviciniamo a qualcosa che sappia di tostato ci renda più favorevoli a degustare quei particolari prodotti. in alcuni casi ovviamente non è sempre così. Il whisky torbato ha una storia particolarissima per l'Italia la multinazionale per cui lavoravo quando venne presentata una linea di whisky che è diventata poi famosa nel corso del tempo chi la presentò il direttore del marketing ricordo questo aneddoto il direttore del marketing raccontò e disse secondo me questo whisky troppo torbato non avrà fortuna dopo qualche anno è stato licenziato perché quel whisky molto torbato di quella linea della multinazionale rappresenta il numero uno tra le vendite di whisky torbati quindi in un particolare settore in un particolare ambito all'interno del mercato dei consumatori. Al quinto posto lì è l'Italia per quanto riguarda i consumi di single malt tra i paesi che li consumano nel mondo e il whisky di malto per noi rappresenta una buona fetta di mercato diciamo oltre il 50% nel mondo si beve non torbato e i whisky non torbati sono molto particolari perché lì andremo a leggere andremo a vestire in questa occasione speciale indosseremo questo whisky perché avremo bisogno di particolari sensazioni ed emozioni e profumi e gusti che ci darà questo whisky in particolare l'Inkwood la selezione è una selezione particolare Castrain Selection ovvero sono i whisky che vengono presi esattamente come sono nella botte al termine dei 14 anni di invecchiamento questo whisky si entra nella warehouse nei magazzini di stoccaggio si sceglie quella botte se la si è acquistata la si sceglie la si prende la si seleziona e il whisky da quella botte passa direttamente alla bottiglia ed è quello che noi faremo adesso andremo a degustare un whisky particolare perché particolare perché la gradazione alcolica c'è scritto in etichetta sempre molto chiara in Wilson e Morgan 58,3 gradi un'altra cosa che ci dice l'etichetta sarà oltre a quella in cui è stato distillato nel 2007 imbottigliato nel 2021 sherry finish oloroso che vuol dire vuol dire che il whisky questo whisky l'incode è rimasto ad invecchiare in barili ex barbon per tutto il tempo necessario e poi per un periodo particolarmente importante ha rifinito la sua vita è arrivato a completa maturazione in un barile che ha già contenuto sherry in questo caso sherry oloroso con una media punta di dolce all'interno dello sherry questo però questi barili conferiscono degli aromi particolari al whisky se andiamo a guardare il colore è un colore impegnativo è un colore del whisky che ha 14 anni di invecchiamento la botte conferisce colore ai whisky nei momenti in cui i whisky vengono invecchiati avviciniamo il bicchiere al naso e la sensazione che ci accoglie ogni volta che c'è un barile di whisky è quella di vino di vinoso di uva ma questo non è un whisky che ha solo questo il whisky liquid è un whisky particolarmente complesso ecco in questa serata in questo momento della mia giornata voglio bere un whisky complesso voglio stare ancora di più con me stesso voglio avvicinarmi io e il mio whisky e dialogare insieme perché? perché ho bisogno di leggermi nelle profondità bene questo è un whisky profondo questo è un whisky oserei dire quasi da meditazione se non fosse che meditazione a una parola così abusata per cui le utilizzano per tutto anche per il gelato cioè il gelato da meditazione adesso a parte la battuta ovviamente andiamo avviciniamoci a questo whisky parliamo con lui come qualche volta suggerisco ma soprattutto in questo caso quando l'alcol è pronunciato è fortemente presente soffiamo nel bicchiere e tiriamo su con il naso per sentire meglio i profumi ecco che la parte vinosa la parte di frutta di frutta di pesca di pera parte di frutta matura ci viene incontro 14 anni di invecchiamento il cereale ha fatto il suo lavoro il whisky è invecchiato in quella particolare maniera distillato in quegli alambicchi che gli danno quelle caratteristiche e esaltano particolari profumi e aromi e questi profumi mi accolgono questo sembra quasi una torta della nonna questo sembra quasi un dolce di natale ecco forse questo vestito può essere questo elemento questo whisky da degustazione è più un whisky per un momento caldo per un momento in cui voglio essere coccolato un whisky coccolato e che ci coccola è una bella definizione per un whisky secondo il mio punto di vista con questi aromi con questi profumi vi viene solo voglia di bere e lo facciamo insieme ricordate sempre masticate il whisky nel primo sorso nella prima sorsata masticatelo fate sì che la saliva vada incontro al whisky e si misceli con il whisky armonizziamo il whisky con la saliva sentiremo meglio probabilmente i profumi e i sapori ecco è caldo esattamente come nel naso mi dava questa sensazione è caldo mi accoglie mi avvicina una sensazione di vino di vinoso di sherry appunto le riconosco l'uva l'uva passa ma anche quella frutta quella frutta matura addirittura la pesca riesco a sentire ma fruttato questa è la parola giusta ecco se abbiamo vicino a noi intorno a noi se vogliamo accompagnare qualcosa con il whisky facciamolo prendiamo un po' di cioccolata la facciamo sciogliere prendiamo della frutta per esempio della fragola della banana o della pera lo intingiamo nel cioccolato fuso e poi andiamo a mangiare questa frutta che meraviglia le sensazioni della frutta si legano con quelle del cioccolato che si armonizzano con il whisky che in questo momento io ho in bocca e quindi tutta la sensazione i profumi di vino di vinoso di pesca di frutta matura vengono incontro ma arriva anche la frutta secca sembra quasi sembra quasi di essere arrivati nel dolce di natale nel momento giusto il panettone il pandoro quella crema quel miele mi coinvolge forse è proprio questa occasione speciale di cui avevo bisogno per incontrare questo whisky ho fatto la scelta giusta e probabilmente questi video ci aiutano a poter indirizzare fare un percorso verso il whisky giusto al momento giusto ci coinvolge meglio nella nostra vita quotidiana e ancora l'olfatto i profumi a questo momento vengono fuori l'alcol è sempre molto forte molto evidente invade quasi il nostro naso usiamo sempre il trucchetto che vi ho svelato di soffiare nel bicchiere tirare su con il naso i profumi emergeranno meglio si sentiranno meglio ovviamente quando lo beviamo l'alcol è piuttosto invadente è piuttosto forte però sembra strano pizzica brucia meno l'alcol di una bottiglia streng castreng selection piuttosto che una bottiglia comune perché senza l'aggiunta dell'acqua noi andiamo a sentire le essenze ovvero l'entità vera dell'alcol del profumo del whisky e questo mi è successo una volta andando a visitare un magazzino di stoccaggio quando andando a prendere il whisky come da barile dopo Cornetta e Cappuccino chiaramente erano le 11 del mattino sono andato a disgustare ad assaggiare un whisky così come era dalla botte e quei profumi sono rimasti impressi in me tanto da farmi diventare un adoratore del whisky sono Michelangelo di Toma vi introdurrò nel mondo di Wilson e Morgan in una categoria di whisky molto particolare si chiama special release il mondo di Wilson e Morgan è un mondo di imbottigliatori privati un imbottigliatore privato Fabio Rossi che nelle sue ricerche nelle sue selezioni decide e stabilisce quali botti di quali distillerie prendere e portare ad invecchiamento le acquista le lascia ad invecchiare e quando arrivano a piena maturazione a quel punto le riprende le imbottiglia e le mette in commercio ci dà l'opportunità di poterle acquistare nella ricerca Fabio Rossi va ovviamente a selezionare quelle particolari botti quelle particolari distillerie che hanno la possibilità di esprimersi al meglio nei loro rilasci particolari special release niente di meglio di Morlac il whisky di questo momento di questa occasione speciale e qui siamo di fronte veramente ad un'occasione speciale Morlac è di proprietà di una multinazionale e per molti anni questo whisky non è stato rilasciato dalla distilleria con la sua vendita in single malt quindi non c'è stato nessun rilascio di questo whisky Morlac era utilizzato per il blended di questa grande multinazionale ovviamente era una componente estremamente importante ci sono delle distillerie Morlac Portellen Caulila che per il loro nome e la loro fama Brora sono diventate famose nel corso del tempo perché queste distillerie sono il cuore pulsante delle più alte espressioni dei whisky blended e i whisky blended sono i whisky più venduti al mondo poi queste distillerie le multinazionali proprietarie di queste distillerie decidono qualche volta di avere dei rilasci e quindi di presentare al pubblico delle tirature limitate che esprimano queste particolari distillerie ci troviamo di fronte a una distilleria che per quello che mi riguarda almeno è stata una leggenda nel corso della mia esperienza lavorativa ho avuto modo di vedere la multinazionale per cui lavoravo che rilasciava la prima edizione di questo whisky come single malt fino a quel momento non c'erano single malt di questa distilleria nel mio catalogo nel mio portafoglio questa distilleria era la distilleria il cui whisky era più caro in assoluto tra tutti i whisky che io avevo a disposizione per me è diventato un mito nel lancio di questo prodotto la multinazionale utilizzò molti elementi diciamo così di marketing quindi molti elementi di pubblicità delle foto di epoca dei librettini che facevano vedere il lavoro che veniva fatto tanti anni fa in questa distilleria questo per riportarci alla natura delle distillerie del whisky di malto i single malt appartengono alla storia e alla cultura e alla tradizione di un popolo conosco i single malt da tanti anni quasi 40 anni e probabilmente alcuni di voi quando io assaggiavo e degustavo questi whisky non erano ancora nati questa sera Mortlack special release 23 anni single malt distillato nel 1997 qui abbiamo una traccia in più di questa special release ovvero abbiamo la traccia della botte devo dire che questo compare spesso in Wilson & Morgan ma nelle edizioni speciali nel barrel selection ovviamente la tracciabilità un elemento estremamente importante arricchisce con qualcosa qualche informazione in più rispetto al whisky gradazione alcolica 56 gradi castrem vuol dire così come il barile ce l'ha data dopo 23 anni è un whisky molto strutturato siamo nel distretto dello Speyside abbiamo imparato che nel distretto dello Speyside i whisky hanno sempre una loro corposità una loro struttura un loro modo di essere particolare bene questo whisky così strutturato così particolare è un whisky che immediatamente ci coinvolge all'olfatto i 53 gradi innanzitutto il colore di questo whisky guardate con che colore carico così scuro si presenta una espressione particolare di questo whisky ce la dà il profumo 53 gradi ma quasi sembra non sentire l'alcol qual è il momento giusto l'occasione speciale questa è proprio veramente un'occasione speciale perché ci troviamo di fronte ad un whisky lo vedete anche dalle elegante confezioni molto particolare una rarità e come tutte le rarità a questo punto si usa la parola abusata in alcuni casi da meditazione sentiamone il profumo ma visto che l'alcol comunque si fa sentire soffiamo nel bicchiere e tiriamo su con il naso questo era un po' un trucco che vi ho insegnato che vi ho raccontato in queste puntate facendo in questo modo l'alcol si sposta si muove all'interno del bicchiere riesco a sentire meglio i profumi e a questo punto andiamolo ad assaggiare immediatamente l'imponenza l'importanza di questo whisky si fa subito presente nella nostra bocca nel nostro palato secco e asciutto all'impatto però subito dopo la frutta secca che si fa avanti e insieme della ciliegia molto matura e della vinosità come fosse dell'uva passa come fosse dello sherry ecco quest'impressione che io ho in questo momento nel palato mi conquista mi scalda per parte quest'alcol risulta essere anche un pochino ruvido nel gusto nell'espressione nel modo di essere ma io comunque ho bisogno di questo dialogo ho bisogno di questo momento ho bisogno in un momento speciale in un'occasione speciale della mia giornata di essere con il mio whisky ma sentite adesso le intensità e le note che vengono fuori non c'è torba eppure ho la sensazione in bocca come se avessi delle foglie di tabacco delle sensazioni legate alle foglie di tabacco al vegetale alla frutta alla frutta piena alla frutta matura è un whisky che mi regala in ogni momento in ogni attimo in ogni minuto che passa una sensazione nuova la parte dell'alcol piano piano è svanita nella bocca e adesso emergono tutte quelle che sono le caratteristiche di questo whisky Morlac 23 anni veramente un'occasione speciale veramente un'occasione particolare per questo whisky questo è il momento migliore per me per poterlo degustare con attenzione l'alcol è sempre piuttosto evidente ma mai aggressivo mai forte almeno nel mio bicchiere mi lascia sentire dei profumi ovviamente per tutti quanti noi anche per me certe volte c'è bisogno di alleggerire questa tensione determinata dall'alcol soffio nel bicchiere tiro su con il naso ecco come i profumi sanno manifestarsi al meglio un altro piccolo sorso di questo whisky così bello così intenso anche perché so che ogni sorso mi regalerà dei profumi e delle sensazioni e degli aromi particolari ecco che questa aggressività dell'alcol passa con il secondo assaggio e vengono fuori delle note di miele delle note gustose di cera d'api e delle note di legno e delle note di cereali ma di frutta di frutta secca di frutta fresca intensa quasi sembra venire fuori delle note di frutta tropicale ma è una mia impressione è soltanto una mia idea legata al momento particolare all'occasione questa in cui sto degustando insieme a voi questo whisky ecco come i whisky sanno essere il giusto accompagnamento un sigaro perché no abbinarlo con un sigaro ci starebbe bene del cioccolato sicuramente magari del cioccolato fondente 70% non andrei mai oltre il 70% per quanto riguarda il cacao il cioccolato la percentuale di cacao nel cioccolato perché se è troppo invadente il cacao poi alla fine non riesce a darmi le giuste sensazioni a me verrebbe in mente anche di abbinarlo con un cioccolato che abbia per esempio delle mandorle delle nocciole perché la frutta secca è piuttosto evidente in quello che io sento bene questo è il momento speciale la mia occasione speciale per questa special release un momento importantissimo tanto quanto è importante questo whisky già da come si presenta ma poi nel bicchiere rende sicuramente merito a quello che noi abbiamo appena sentito Slanjava alla salute sono Michelangelo di Toma vi introduco nel mondo Wilson & Morgan i whisky di Wilson & Morgan sono delle selezioni curate apposta dal 1992 con cura da Fabio Rossi e dal suo team che lo affianca nella scelta si va in distilleria in Scozia si scelgono le botti che una volta selezionate rimangono di proprietà di Wilson & Morgan ad invecchiare nelle varie proprie distillerie in più delle volte sulle bottiglie troviamo il nome della distilleria selezionata con le botti selezionate in alcuni casi invece la bravura evidentemente di Wilson & Morgan è quello di acquistare delle botti in delle distillerie che sono sotto copertura diciamo così usando dei termini spionistici vengono acquistate delle botti e una volta che vengono acquistate queste botti da queste distillerie si sceglie di battezzare una particolare edizione di quella distilleria con un nome particolare Speybridge il whisky voglio presentarvi in questo momento è Speybridge è un nome di fantasia in realtà è il nome di una località che è nello Speyside ci sono cinque distretti in Scozia uno dei distretti più interessanti i cui whisky sono particolarmente corposi diciamo strutturati ecco per dirla meglio e derivano proprio dal fatto che le elaborazioni le distillerie sono in un ambiente prendono delle materie prime vengono lavorati i whisky in un mondo che offre e favorisce lo sviluppo di whisky particolarmente interessanti e strutturati diciamo così bene Speybridge è un punto di incontro di strade che si trovano all'interno dello Speyside esattamente nella parte occidente dello Speyside è un nome di fantasia ma in realtà è l'incontro tra due o tre strade che portano a tante altre distillerie una di queste strade passando per Speybridge ci porta ad una distilleria segreta che non posso rivelarvi anche in questo caso neanche sotto tortura e questa distilleria ci offre questo distillato questo single malt fatto in un'unica distilleria utilizzando orzo maltato è un distillato del 2012 imbottigliato nel 2022 è facile contare per dire che ha dieci anni di invecchiamento gradi alcolici sono 46 mediamente un whisky quando invecchia messo in botte a 63 gradi il whisky evapora insieme all'acqua la gradazione alcolica scende poi si decide di aggiungere dell'acqua pura di sorgente per portarla alla gradazione alcolica per presentare questo whisky bene questo whisky è stato portato a 46 gradi perché anche il dettaglio della gradazione alcolica è importante quale vestito vogliamo indossare oggi qual è la speciale occasione in cui vogliamo bere Speybridge e perché allora leggiamo l'etichetta Sherry Finish PX è una sigla che vuol dire Pedro Jimenez è un tipo di Sherry particolarmente dolce è uno Sherry che ha 28 grammi di zucchero per litro e quindi è uno Sherry che quando lo assaggiamo lo Sherry lo sentiamo particolarmente morbido questo whisky invecchia in Barili ex Bourbon e poi finisce per 20 mesi circa una rifinitura in botti ex Sherry Pedro Jimenez immaginate che se è uno Sherry piuttosto morbido rotondo conferirà a questo whisky degli aromi e dei profumi particolari andiamo a conoscere indossiamo questo whisky andiamo a degustarlo per la nostra occasione speciale questo whisky sarà ideale per un momento particolare della nostra vita quotidiana quale? ma il colore è un giallo oro un po' più intenso rispetto a prima direi quasi brillante e all'olfatto immediata la sensazione di Sherry viene al mio naso l'uva passa la botte che è stata utilizzata per una lunga finitura ma si sente anche comunque il profumo dei cereali non tutti i whisky conferiscono subito questi aromi all'olfatto Speybridge lo fa Speybridge parla con noi dialoga in questo momento è un rapporto di amicizia che si crea tra noi e il whisky andiamo ad assaggiarlo quando assaggiate un whisky il primo sorso masticate il whisky in maniera tale che la saliva possa amalgamarsi con il whisky in questo modo noi abbiamo la possibilità di sentire maggiormente tutti gli eroimi profumi che rimangono nascosti dall'alco lo facciamo insieme chiara subito una noda morbida rotonda di Sherry immediatamente e di cereali e di farina fragrante è un whisky che però ha una sua morbidezza ecco è un momento in cui questo whisky mi fa sentire a mio agio con questo vestito forse è un primavera estate nella mia collezione perché perché questa sua gentilezza questa sua morbidezza è proprio quello che ci vuole in questa mia occasione speciale voglio degustare un whisky che mi metta a mio agio magari abbinato affiancato con un pezzo di cioccolata fondente o anche una cioccolata che ha un aroma di fragola oppure una cioccolata che ha dei sentori per esempio di pera ecco questi aromi questi profumi queste sensazioni derivano dagli alcoli non ci sono messi dentro questi aromi è vietato mettere gli aromi nel whisky tutti questi aromi vengono fuori dai processi di distillazione sono i nomi di particolari molecole chimiche che quando entrano nella nostra bocca frizzano come le pasticche le caramelle di una volta si aprono in bocca e ci riempiono di profumi e di sapori così fa il whisky con noi sentiamone di nuovo il profumo ed ecco questa bella sensazione di sherry è molto coinvolgente evidentemente in questo momento io voglio vestire indossare questo whisky voglio degustare questo whisky è il mio momento particolare della giornata e allora lo assaggerò mi metterà a mio agio un corpo giusto un'intensità in bocca tutte quelle sensazioni che io cerco in questo momento le ritrovo quella parte di vinoso quella parte per esempio di fragole e di ciliegia quella parte di frutti rossi ma anche una parte di mandorla e di nocciole una serie di sensazioni che si aprono nella mia bocca perché è la saliva che le fa aprire ormai mio palato è abituato al whisky gli ho già stretto la mano l'ho già fatto diventare mio amico e io sono diventato amico di questo whisky bene per un vostro momento particolare della giornata abbinato per esempio anche ad un plum cake per esempio o anche a un muffin per esempio coi frutti rossi bene provate questi accostamenti questi abbinamenti renderà più simpatico e piacevole il dialogo tra noi e il whisky sono Michelangelo di Toma vi introdurrò nel mondo di Wilson e Morgan con un whisky bitan bitan l'ho pronunciato all'italiana praticamente in realtà questa parola è una parola magica particolare per chi ama il mondo del whisky isghebeta era la parola che veniva utilizzata in Scozia per definire l'acqua di vita acquavite l'acqua di vita era un prodotto che veniva fatto utilizzando i cereali lavorandolo in una particolare maniera si otteneva una birra e a quel punto la si beveva anche con la birra che rimaneva non avendo elementi per poterla conservare la si faceva bollire ho semplificato ovviamente la produzione del whisky non è proprio così ma tanto per lanciarvi un'idea questo è il mondo che ci introduce il modo che ci introduce al mondo del whisky oggi whisky acqua di vita isghebeta diventa per noi un vestito da indossare per una occasione speciale bitan lo pronuncio così anche se la pronuncia non è giusta ma mi piace pronunciarlo in questo modo isghebeta beta è un prodotto di Wilson & Morgan distillato nel 2013 imbottigliato nel 2021 i gradi alcolici sono 46 ora il whisky viene messo nelle botti a 63 gradi nel corso del tempo il whisky evapora ma evapora anche l'acqua la gradazione alcolica si abbassa a quel punto una volta che il whisky è arrivato a piena maturazione imbottigliato nel 2021 una volta che il whisky è arrivato a piena maturazione e quando Fabio Rossi e i suoi selezionatori decideranno che il whisky è pronto a quel punto viene aggiunta dell'acqua pura disorgente per portarlo alla gradazione alcolica a cui noi lo degusteremo questo whisky rappresenta l'identità non di una particolare lavorazione bitan non è il nome di una distilleria bitan è un nome di fantasia che è stato utilizzato per una distilleria segreta siamo nelle highlands le terre alte la Scozia è divisa sostanzialmente in cinque grandi regioni le lowlands le terre basse le highlands c'è lo Speyside che è un piccolo distretto a nord est della Scozia in cui c'è oggi delle cento distillerie la metà delle distillerie presenti sono e lavorano in quella zona gli altri distretti sono il Campbell down e soprattutto le isole nelle isole ci sono i whisky più torbati la torba è un elemento naturale viene utilizzato per tostare il cereale a questo punto il cereale tostato avrà una caratteristica leggermente fumosa quello che noi è stato riproposto e vogliamo riproporre per voi il vestito adatto per questa speciale occasione è quello di degustare un whisky che ha una media torbatura siamo nelle highlands le terre alte la distilleria è segreta non la posso rivelare neanche sotto tortura questa distilleria però è una distilleria che produce in piccole quantità con un sistema di produzione oserei dire quasi artigianale tutte le distillerie sono artigianali ma loro producono proprio come una volta c'è ancora mio nonno che lavora nella distilleria bene una volta che il whisky viene prodotto Wilson e Morgan ha acquistato quella botta è diventato proprietario di quella botta è invecchiata per tutto il tempo necessario lo imbottigliano e lo presentano a noi per una occasione speciale come sempre faccio io quando andiamo a degustare i whisky e invito anche voi a farlo a casa con gli amici fatelo perché tutti i sensi vanno coinvolti in una degustazione si prende il bicchiere si guarda il colore qui siamo di fronte ad un giallo oro non molto acceso ma anche l'occhio vuole la sua parte ma forse anche l'udito vuole la sua parte quando versiamo il whisky nel bicchiere e poi sentiamo il rumore del whisky già ci prepara per entrare nel mondo del whisky che ci accoglie il vestito in cui noi entriamo indossiamo quel vestito per poter vivere questa occasione speciale a questo punto avvicineremo il bicchiere al naso probabilmente anzi sicuramente l'alcol brucerà un pochino le nostre narici a questo punto io vi confido un piccolo segreto soffiate nel bicchiere in questo modo l'alcol se ne va tirando su con il naso quello che riusciamo a sentire noi sono dei profumi erbaceo sono delle parole che io dico benissimo nel momento in cui bevo whisky siccome ne ho bevuto abbastanza è più facile per me pronunciarle in realtà tutto quello che noi sentiamo nel bicchiere riusciamo a crearlo noi a idearlo noi perché viene dalla nostra memoria del cuore quella che ci portiamo dietro fin quando siamo bambini soffiamo nel bicchiere sentiamo con il naso è un whisky piuttosto delicato la nostra speciale occasione ha bisogno di un whisky delicato questo ha bisogno di un whisky non troppo impegnativo bitan il sentore erbaceo è fragrante è la parte che più mi coinvolge è qualche cosa ecco forse ho bisogno di rilassarmi in questo momento della mia giornata questa mia occasione speciale ha bisogno di questo whisky per farmi sentire tranquillo ma anche sorridente con me stesso questo whisky mi invita al sorriso e adesso lo assaggerò con voi come si degusta un whisky all'inizio per conoscerlo come si dice tra gli amici ci si saluta ciao come stai benvenuto come va quanto tempo che non ci vediamo si sorride con gli occhi si sorride con il viso ecco il whisky ci fa fare questo nella stessa maniera un grande artista parla con il whisky ma è perché ha bevuto molto whisky io non ancora però quando ci avviciniamo a questo whisky il whisky ci dà delle sensazioni delle emozioni che si collegano con la nostra memoria del cuore e quando lo assoggiamo questo whisky ha questa intensità questo colore ritorna alla fragranza ritorna alla morbidezza ritorna a quell'erbaceo ed ecco che arriva nella sua struttura un po' ruvida se vogliamo forse quest'abito che sto indossando questa sera è un po' un abito mezza stagione non è proprio estivo bene quest'abito che ho indossato questi profumi questi aromi vengono fuori e mi mettono a mio agio mi sento più rilassato avvicinerò di nuovo il bicchiere al naso sentinò di nuovo altri profumi un profumo di erba piuttosto evidente ma anche un leggero profumo di torba che cos'è la torba è difficile da descrivere molte volte si usano tante parole particolari molto semplice fumo fumo un po' delicato un po' particolare un po' caratteristico è un fumo che ha una sensazione particolarissima bene ogni whisky viene lavorato con una certa quantità di torba quelli torbati ovviamente la maggior parte dei whisky scozzesi non sono torbati e qui ci aiuterà ci aiuta Wilson e Morgan quando in etichetta scrive se il whisky ha più o meno quantità di torb altrimenti lo si trova nella scheda che Wilson e Morgan mette a disposizione di tutti quelli che vogliono sapere qualche cosa di più di quel whisky questo whisky nell'etichetta ha scritto anche Sherry Wood Finish Finish in oloroso il whisky invecchia in barili ex bourbon barili botti che hanno già avuto il bourbon come whisky ad invecchiare una volta che il whisky è rimasto ad invecchiare per il giusto periodo di tempo che Wilson e Morgan decide e ritiene opportuno a quel punto il whisky viene messo in finitura rifinito diciamo così passa un periodo più o meno lungo dai sei mesi a un anno e me ai dieciotto mesi per poter avere e acquisire quelle caratteristiche di una botte differente quindi si passa da una botte ex bourbon ad una botte ex Sherry ex Sherry oloroso finish ed ecco che le sensazioni e i profumi di un vino liquoroso come lo Sherry in questo momento coinvolgono pienamente la mia bocca sento le sensazioni sento quel leggero fumo è una danza forse è il vestito giusto per questa sera o questo momento in cui mi sento particolarmente felice contento con me stesso in cui voglio danzare con il whisky ecco dancing with the whisky questo è Beaton per Wilson & Morgan sono Michelangelo Di Toma smokehead non è il nome di una distilleria ma è il nome di fantasia ideato da Leonard Russell per un suo prodotto particolare è un'idea un'idea di marketing che nasce intorno al 2012 in cui viene presentato primo tra tutti uno smokehead leonard Russell il proprietario della yamme cleod acquista da una distilleria sull'isola di aile una serie di barili li lascia lavorare in una particolare maniera e poi dopo li imbottiglia a quel punto nasce il primo smokehead che ha subito un successo ha un successo sia per la veste sia per il packaging noi qui vediamo la veste del 2022 ma le bottiglie originali erano trasparenti e dietro nel retro della bottiglia si leggevano delle parole quella bottiglia le bottiglie originali sono state premiate con i premi da migliore impronta di marketing legata ad una bottiglia di whisky sono state premiate dalle migliori agenzie che danno i premi a queste invenzioni di marketing proprio per il modo con cui veniva presentato questo whisky smokehead siamo sull'isola di Aile dopo il successo dello smokehead nel 2012 nasce smokehead high voltage una gradazione alcolica a 58 gradi subito dopo arrivano delle release dei rilasci che sono particolari uno di questi insieme a Rurrebel è Sherry Bomb è il nostro momento è la nostra occasione speciale è il nostro momento particolare in cui noi nell'arco della nostra giornata incontriamo il whisky è quello che noi abbiamo nel bicchiere questo whisky che abbiamo nel bicchiere a questo punto aspetta solo noi per poterci incontrare ne sentiamo il profumo la parola è sempre molto chiara l'etichetta ce lo dice siamo su una distilleria segreta che non posso rivelare neanche sotto tortura dell'isola di Aile in internet ne trovate tante di ipotesi fantastiche è una selezione particolare lavorato questo whisky di questa distilleria nella distilleria per Yam e Cleod solo esclusivamente in botte di Sherry i 48 gradi si sentono ma non danno fastidio perché probabilmente è la gradazione giusta dell'alcol per dare enfasi a quello che sono i sapori e i profumi di questo whisky poi all'olfatto sentiamo la sensazione di Sherry è piena è robusta è densa questo whisky sembra già essere oleoso all'olfatto e poi a questo punto lo assaggiamo lo mastichiamo ed ecco il sapore di Sherry che ci coinvolge ci avvolge ma soprattutto quello che ci esplode è la sensazione del fumo di fumoso e di torba ecco questa occasione speciale è per chi ama un whisky torbato ovvero quel whisky che ha quel profumo di fumo piuttosto evidente e il whisky torbato in questo caso è stato invecchiato solo e unicamente in una botte di Sherry questo ha dato origine ad un whisky particolarissimo chiunque gli amanti del whisky torbato chiunque si avvicini a questo whisky sentendo queste esplosioni sentendo questi aromi questi profumi ne rimane innamorato immediatamente a portata di mano delle ciliegie immediatamente delle fragole immediatamente della frutta tutta da intingere nel cioccolato e da degustare che meraviglia un'idea spettacolare per accompagnare questo whisky ancora all'olfatto soffio nel bicchiere per far allontanare le note dell'alcol sento il profumo scerico involgente ma soprattutto fumo fumoso cenere cuoio tabacco per gli amanti del whisky torbato quindi per gli amanti di questo whisky particolare Smuked Sherry Bomb rappresenta un buon punto per un momento particolare in un'occasione speciale della giornata e il nostro vestito è il nostro abito per questo momento lo assaggiamo insieme le note di ciliegia e le note di uva e di Sherry emergono ma poi questa sensazione piacevole di fumo a chi piace ovviamente di fumo di fumoso di torba che ci avvolge ci coinvolge questa sensazione di cenere un retrogusto estremamente lungo prolungato proprio dalla botta di Sherry questo è il momento giusto per poter degustare Sherry Bomb e questo è il momento che noi abbiamo scelto per indossare un whisky in un momento speciale della nostra giornata Slanjava alla salute sono Michelangelo di Toma vi introdurrò nel mondo di Jan McLeod e della sua prima distilleria acquistata Glen Goyne 2003 si racconta un aneddoto raccontato da Dave Broom un giornalista che l'ha intervistato il giorno che Leonard Russell decide di acquistare questa distilleria dalla vecchia proprietà i vecchi proprietari aspettarono che sul conto corrente passasse il bonifico di Leonard Russell per l'acquisto della distilleria e lui aspettando questo bonifico che passasse stava fuori della distilleria seduto in un furgone apri una bottiglia di whisky sorseggiò questo whisky aspettando l'ok da parte del vecchio proprietario una volta che tutto era formalizzato i soldi erano passati sul conto Leonard Russell a Ian McLeod era il nuovo proprietario di Glen Goyne si avvicina e entra nelle distillerie trovando timorosi tutti gli operai che lavoravano per tranquillizzarli ma soprattutto perché aveva già in mente di fare questo discorso disse guardate ho perso il libro su come si fa Glen Goyne ho perso le chiavi su come si apre e si chiude questa distilleria vi pregherei cortesemente di continuare a fare quello che avete fatto fino adesso e io vi sosterrò da quel momento ad oggi tutte le persone continuano a lavorare in questa distilleria molto contenti della nuova proprietà è una storia raccontata da lui in un'intervista ci fa molto piacere riconoscere i tratti di un imbottigliatore indipendente di uno scozzese che acquista una distilleria ma soprattutto ne rispetta le tradizioni è una distilleria particolare Glen Goyne è per la metà nelle Highlands poi c'è la strada e nell'altra metà nei magazzini di stoccaggio nelle Lowlands le terre basse quindi è una distilleria che è al confine ma ha una caratteristica di essere un whisky in cui tutto viene fatto in maniera leggera e soprattutto lenta lentamente si prendono i cereali si fanno maturare si fanno fermentare lentamente si fanno distillare e alla fine il whisky è un whisky che risente di questa lentezza quello che noi degusteremo in questo momento nella nostra occasione speciale avremo bisogno di un whisky non torbato 59,3 gradi un whisky quindi come da barile l'età media per questo whisky è intorno ai 12 anni ma non c'è scritto in etichetta quindi può variare a seconda di quello che è l'influenza climatica per l'invecchiamento e quando abbiamo nel bicchiere questo whisky la prima cosa che facciamo guardiamo il colore che è un giallo oro particolarmente intenso e vivace ne sentiamo il profumo che è tipico di Glengoy nella mera la pera gli agrumi e anche un po' di floreale la lentezza nella produzione del whisky la ritroviamo nel bicchiere ma siccome l'alcol ci assale nelle narici soffiamo nel bicchiere come vi ho raccontato tiriamo su con il naso e sentiamo questi profumi meravigliosi che ci avvolgono è un whisky a chi piace e si avvicina a Glengoy continuerà poi sempre a berlo perché ti rilascia è un po' come se ti tranquillizzasse ti rilascia sempre quelle stesse sensazioni lo beviamo insieme ed eccole le sensazioni di Glengoy esattamente quelle che cercavo mi tranquillizzano mi rilassano ecco vogliamo nella nostra occasione speciale rilassarci con un whisky degustarlo in maniera serena senza essere troppo impegnati a capirlo a leggerlo ma magari abbiamo il nostro libro o magari in un momento particolare della giornata abbiamo solo il piacere di bere un whisky e di sentire alcuni aromi la pera la miera matura la ciliegia quanti aromi riesce a darci Glengoy la sua lentezza la ritroviamo nel bicchiere diventa la nostra lentezza ancora l'olfatto ne sentiamo un profumo l'alcol pronunciato per i 59 gradi ovviamente soffiamo nel bicchiere tiriamo su sentiamo tutti questi profumi adesso arriva la canamella mu adesso arriva il cereale adesso arriva la frutta secca ma poi questa sensazione di agrume che ogni tanto si sente poi andiamo a degustarlo e lo ritroviamo nel bicchiere l'occasione speciale un'occasione per bere un buon single malt Zlangeva sono Michelangelo di Thoma vi introduco nel mondo di Yamme Cleod esattamente nella distilleria di Tamdu che è diventata di proprietà di Yamme Cleod intorno al 2010 se ricordo male Yamme Cleod un'azienda i cui antenati di Leonard Russell hanno sempre lavorato nell'assemblaggio quindi acquistare i whisky da diverse origini e poi assemblarli rivenderli con dei blended più o meno più o meno importanti Leonard Russell decide diventando proprietario della Yamme Cleod la guida della Yamme Cleod di acquisire alcune distillerie tra queste Tamdu Tamdu era una distilleria di proprietà di un gruppo che decide di disfarsene ce n'aveva abbastanza e quindi Tamdu secondo loro non era remunerativa un whisky che si vendeva poco Leonard Russell intuisce che dietro Tamdu ci può essere una forza perché? perché Tamdu come distilleria è una distilleria che ha una sua struttura produce 4 milioni di bottiglie soprattutto ha un modo di lavorare il malto il cereale è un whisky mediamente torbato ha un modo di lavorare il malto esattamente il cereale in una particolare maniera il malto una volta che viene messo in acqua si fa asciugare a pavimento però poi a quel punto le persone che lavorano nella distilleria devono rimestare il malto continuamente per evitare che si formino delle muffe questa è stata una distilleria progettata da un architetto geniale che ha fatto una struttura adatta per una distilleria ma soprattutto è una distilleria che ha adottato prima tra tante distilleria il salad in box dal nome di un ufficiale francese salad in box è un metodo una metodologia che serve per asciugare il cereale una volta bagnato nella sua fase di lavorazione per asciugarlo senza utilizzare il grande pavimento ma semplicemente mettendolo in un contenitore ci sono delle pale che ruotano in continuazione e questo cereale viene essiccato in questo modo il processo di esticcazione è uniforme per tutti quanti i cereali e non si hanno quei difetti diciamo così dell'artigianalità dell'omino che sposta il cereale all'interno della distilleria una volta che poi questo cereale selezionato in maniera particolare viene lavorato media torbatura a quel punto con una lenta distillazione si ottiene un ottimo whisky che adesso andremo ad assaggiare per la nostra occasione speciale questo ottimo whisky la Yann McLeod ha voluto rifare la bottiglia creando una bottiglia originale ma soprattutto nella sua idea era quella di fare il vecchio nuovo McCallan questo whisky è unicamente lavorato invecchiato affinato portato alla fine dell'invecchiamento solo e unicamente in botti ex sherry e andiamo ad incontrare il nostro Tamdu 12 anni e poi il desiderio di bere ecco è quel whisky per questo mio momento particolare della giornata sento un odore di frutta secca sento un odore di frutta fresca ma è frutta rossa avrò con me magari della frutta secca da abbinare oppure della cioccolata con la frutta secca questo potrà essere un buon momento prova ad assaggiarlo assaggiamolo insieme caldo coinvolgente una sensazione di sherry piena quindi una sensazione di uva di uva passa ma anche di panettone ma anche di pandoro di dolce natalizio con le mandorle con la buccia d'arancia col mandarino quante sensazioni riesce a regalarmi i profumi rimangono ben centrati nella bocca e adesso solo adesso sta arrivando una leggera sensazione di fumo di fumoso che però si accompagna a questo whisky ecco il mio momento giusto il mio momento desiderio desideroso di questa giornata il momento in cui il desiderio incontra un whisky è proprio questo quello per incontrare tanto 12 anni di nuovo all'olfatto queste sensazioni meravigliose l'alcool sembra quasi essere scomparso ma se lo sento mi pizzica il naso vi ho insegnato vi ho raccontato di un trucco vi ho svelato un trucco un segreto soffiato nelle bicchiere tirando su con il naso l'alcool si allontana sentiamo meglio i profumi degustiamolo insieme mastichiamo perché così la saliva riesce ad armonizzare il whisky e a tirare fuori meglio i profumi ed ecco questa sensazione secca ma dolce nello stesso tempo la frutta secca la nocciola la mandorla anche un po' di cacao e questa parte fumosa viene fuori come fosse una foglia di tabacco questa è l'espressione di un whisky questa è la special occasion l'occasione speciale il momento particolare nella mia giornata in cui voglio premiarmi e concedermi un whisky particolare degno per me di questo momento questo è quello che ci vuole slangeva alla salute che ci vuole